La mail che mi è arrivata diceva tipo così Ciao Toys Expression, vuoi collaborare di nuovo con noi? Vuoi creare un giveaway per i tuoi iscritti, regalandogli qualcosa, mostrando i nostri prodotti? E io cosa potevo rispondere se non assolutamente sì? Perché ragazzi lo sapete, ogni volta che ho l'occasione di regalarvi qualcosa, direttamente o indirettamente, la colgo al volo. Quindi, quindi, siamo qua con un nuovo giveaway, ma vi lascio all'intro e poi vediamo di cosa si tratta. Anche se l'avrete già visto nella copertina, probabilmente. Oggi ragazzi siamo qua, come è già successo più volte su questo canale, con un prodotto tipo la Kawaii Box. Ma siamo qui con la Blippo, Blippo Bag, suppongo, perché è questa busta, questa borsetta, con all'interno un sacco di cose. E non so cosa ci sia all'interno, non l'ho aperta. Si è solo disfatto il nastrino venendo qui da casa, che oltretutto, se vedete, indosso gli occhiali da sole perché ho mal di testa. E come sapete, queste luci qui sono abbastanza potenti. E allora tengo un po' gli occhiali da sole, perdonatemi se poi vedo che faccio troppo schifo nel mio schermo perché... Boh, intanto rimangono lì. E sono in pigiama, quindi mi sono messo comodo per vederla con voi. E non l'ho ancora aperta. Vedete che c'è ancora una parvenza di nodo. E cominciamo subito? Allora, anzi, per prima cosa vi dico che cominciamo subito, sì. Poi vi parlo del giveaway. Allora, apriamo questa busta, questa borsa e peschiamo, peschiamo cose a caso. Allora, la prima cosa è questo, che credo sia un gashapon. È un ovetto, sono i classici ovetti che si trovano nelle macchinette, quelle a gettoni, suppongo. Vediamo cosa c'è dentro. Perché è proprio marchiato blippo, quindi è una cosa loro, non è uno a caso pescato. Ah, che carina! Questa qui, allora, se non ho capito male, il loro, simul, il loro mascot è questa bimba, questa ragazzina. E quell'interno c'è il portachiavi, che è questo qui. Sono quelli fatti di gomma, ma è molto carino. Probabile che lo attaccherò alle chiavi, mi piace. Solitamente questi così bianchi si sporcano anche subito, però, chi se ne frega. Però io ho caldo. Un attimo che abbasso il riscaldamento. Eccomi qua, scusate, ma con questo felpone stavo sudando anche i liquidi ingeriti nel 92. Comunque si stavo dicendo che solitamente questi si sporcano subito, però non me ne frega niente, è carino. Probabilmente lo metterò nelle chiavi. Magari proprio quelle dello studio, che non so se ho messo un po' di chiavi. Beh, andiamo avanti. La seconda cosa... Cibo. Qui c'è del cibo. La bustina ovviamente è sempre, sì, mi tocca dirlo in questo video, è sempre kawaii, anche se questo termine ormai dà più fastidio che altro. Ma ci sono questi che credo siano dei cereali, sì, perché ti fanno dare che le mettono nel latte, ma a noi ce ne frega qualcosa? No. E infatti io li apro e me li mangio adesso. Non capisco. Hanno un odore stranissimo. Non capisco se sanno da ananas, da fragola, da marshmallow. Allora, non so dirvi di cosa sappiano, ma sono buonissimi. Perché sono tipo cereali di mais, ma aromatizzati a qualcosa. Che secondo me è fragola, ma dall'odore sembra ananas. Buoni. Però sono scaduti? No. Scadono nel 2027. O forse scadono nel 2027. Boh, non lo so, chi se ne frega. Mia nonna diceva, quel che non strangola è in grassa. E io ci ho sempre aggiunto, è quello che non in grassa si caga fuori. Questo cos'è? Una spugna. Però io quando faccio questo, ho sempre paura di distruggervi le orecchie, visto che ho il microfono qui. Apriamo questa spugnetta, che tanto la confezione non ci interessa. Ma è carinissima. È una spugnetta da lavarsi, suppongo. Non credo sia quella per lavare il bagno. Fatta a forma di gattino. E sapete che quando le cose sono a forma di gattino, mi piacciono sempre, quindi... Allora, questo gattino poteva essere fatto un pochino più bello. Però è carino, mi piace. La userò, magari non per pulire il cesso, ma... Che sia una spugna. È che non si capisce mai niente da questa roba. Che sia una spugna per i piatti? No, non è una spugna da piatti questa. Perché da una parte è morbida da entrambe le parti. Beh, la userò per lavarmi, se poi per i piatti mi laverò, mi luciderò come la porcellana. Poi, questi cosa sono? Sono dei gelatini. Beh, prima vi faccio vedere la confezione, che è un sacchettino trasparente, con all'interno tutti questi gelatini colorati. Che sono? Penso degli evidenziatori. Sì. Un evidenziatore o pennarelli? Non ho neanche un foglio. No, sono evidenziatori, perché colorano pochissimo, quindi sì, sono evidenziatori. Questo è verde. Un verde... Un verde erba, per non dire un verde cacca. Questo non si apre, questo è rosa. Sì, sì, sono evidenziatori. Adesso ve li faccio vedere, eh. Un secondo, ve li swatcho come se fossi un beauty guru. Ma io vi swatcho gli evidenziatori. Pensate che fico che sono. Sono durissimi da aprire. Questo giallo sulla mia pelle si vedrà. Sì che si vede, invece. Non pensavo. Poi c'è questo color crema. Ma perché li sto facendo così piccoli, che poi non vedrete mai niente? Beh, vabbè, chi se ne frega. E poi c'è l'ultimo, che è viola. Allora, i colori, sì, potevo veramente farli più piccoli. I colori sono questi qui. Li vedrete, non li vedrete, li vedrete mai nella vita? Non lo so, proverò a farvi uno zoom. Non ne ho proprio idea se si vedono oppure no. Comunque, insomma, dai, come pensierino sono carini. Non mi dispiacciono. Ma mi piace soprattutto la forma, perché con questo gelatino così soft ice cream mi piacciono carini. Mettiamoli via. Mettiamoli via, che ho già rotto la chiusura. No, non l'ho rotta. Ok, perfetto. Poi, andiamo avanti, che non voglio stare qua due giorni. Questo cosa sarebbe? Apriamolo subito. Boh, che cacchia ha. Che sia tipo un portapastiglie? Ma non capisco. Allora, è fatto a forma di criceto. È tipo un piccolo cricetino carino, ma di qua ha un gancetto per poterlo attaccare. Di qua ha un'altra specie di gancetto, ma diverso, questo qui, per attaccarlo tipo al telefono o qualcosa del genere. E poi c'è questo qui, quindi è pieno di gancetti per attaccarlo, non capisco. Se fosse un portapastiglie che senso avrebbe fare tutta questa roba? Boh, però è carino. Non so per cosa potrò usarlo, però, boh, questa cosa un po' meno. Mi piacevano di più le altre, tipo questi. Oh, che buoni. Io voglio solo roba da mangiare nei video. Questa cos'è? Una clip per capelli con scritto vita cocco e credo che sia fatta in resina. Semplicissima. Anche questa, carina, più che altro perché con la resina fa l'effetto tipo acqua. Nel senso che fa, come vedete, quell'effetto tipo finto vetro lucido. Sì, vabbè, dai, non ha molto senso, però... Ah, ma è anche glitterata sotto, sì. Poi andiamo avanti. Perché c'è un sacco di roba, ma continuo a trovare roba piccole. Uh, questo è carino, ma non so cosa sia. E ovviamente... C'è un foglio. No, non hanno messo un foglio spiegando cosa c'è all'interno. Ah, però c'era, c'era, ma non so dove è finito. Forse l'ho dimenticato a casa. Il bigliettino con scritto chi l'ha confezionata. E il mio è stato confezionato da Brian, se non sbaglio. Comunque, questo qui è un pelucino. Vi prego, cercate voi di indovinare che animale dovrebbe essere. Perché sì, qui ha il cornino da unicorno, ma non mi sembra un cavallo. Forse sì. Sì che è un cavallo. Anche qui c'ha la cremiera e la codina, è un cavallo. Ha le stelline qui sul culetto. È molto morbido. E sotto ha le palline, non so se sentite, che ha questo rumore di palline, per farlo stare in piedi in modo che non rotoli via. Infatti, se vedete, torna in piedi. Cioè, torna più che... sì, in piedi. Poi, qua c'è una bustina di sticker con dei cerbiettini della Sanrio. Questo è originale Sanrio. Questi qua? Sapete che non ho guardato le cose di cosa sono? Questo è della Amufun. Non so se sia una marca. Questi sono originali Sanrio. Quindi questo personaggino sicuramente è un personaggino della Sanrio. La Sanrio, per chi non lo sapesse, è quella che ha inventato, diciamo, Hello Kitty e tutta quella serie di personaggi. Poi, andando avanti, non c'è più niente da mangiare. Uffa. Oh! Un'altra scorta di mascherine. Queste mascherine qui mi erano state inviate, le ho usate praticamente tutte. E mi erano state inviate senza neanche dirmelo. Mi erano arrivate a casa l'anno scorso e, ragazzi, le ho usate un sacco. Perché, vi dico la verità, mi sono trovato benissimo. Solo... Ma come kid size? No, mi hanno mandato quelle più piccole. Allora, le altre erano gigantesche, effettivamente. Da dove si apre questa roba? Da qua. Però non voglio quelle per i bambini. Ma sapete che non mi sembrano quelle che... Sì, che sono quelle piccole. No, cacchio. Sono piccoline queste. Vediamo se possono andarmi bene lo stesso. Sembro un po' deficiente. Sembro avere una museruola più che una mascherina. Però, dai, potrei andarci via lo stesso, secondo voi, con sta roba. Perché, effettivamente, coprire il naso e la bocca lo copre, però... No, ero tutto contento di avere le mie mascherine. Vi giuro, perché con queste mascherine mi sono trovato veramente bene. Non sto scherzando. E poi sono anche carine. Sono diverse dal solito. Hanno soprattutto questo pattern rosa, con tutte le nuvolette, gli fiocchettini. Io mi godo un sacco andare in giro con queste robe. Peccato che siano piccole. Cioè, quella mia è un pochino più grande, in effetti. Questa è quella che ho usato oggi. E questa è la misura. Oddio, non è neanche poi così. È... Un po', sì, di differenza c'è. Ma sapete che io le uso lo stesso? Boh, chi se ne frega. E questo? C'è un piattino di plastica con il personaggino loro, il personaggino della Blippo. Ed è carino, però non so cosa me ne farò, sinceramente. Prevello, mi piace. Sapete cosa? Lo metto in entrata come svuotatasche. In entrata per le chiavi, perché siccome io non ho uno svuotatasche, ne ho comprati diversi, ma poi ne hanno fatto un'altra fine. Questo potrebbe essere... Lo metto in entrata, ci butto le chiavi. Sì, 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 interessante. Alla banana! Sono alla banana. C'è il disegnino della banana e la banana a noi ci piace. Ma a parte quello, non si parla con la bocca piena maleducato, così sono buonissimi. Però secondo me da mangiare con il latte diventano proprio una cosa orrenda. Perché sono dolcissimi. Poi c'è questo astuccio. Questo astuccio... Questo astuccio ci piace. Se sapessi da dove si apre, però. Da qua. Questo ci piace, perché ha anche dell'oro. Ma fatemi capire una cosa, poi... Ah, sì, dai, è carino, è carino, è carino. Questo mi piace, è molto carino. È sempre della Sanrio. Ed è di pompon purin. Se vedete, è un astuccetto. Dentro è completamente giallo, con anche questa cosa, in modo che non cada... Che quando ci infiliamo la roba, non cada tutto fuori. Ma è carino, perché è fatto di plastica. Ma è due strati di plastica. Non so se si riesce a capire. Praticamente c'è uno strato di plastica trasparente sopra, con disegnato appunto il personaggio. Forse da qua si vede meglio. E poi sotto c'è quest'altra plastica, che è quasi doratina, con i glitter. No, molto carina. E in più qui c'è l'etichetta con scritto Sanrio, tutta oro. Che bello. Questo lo utilizzerò. Lo utilizzerò sicuramente per quando devo venire in studio, che ho sempre delle robine, tipo qualche trucco, qualche roba, roba che oggi non ho usato e si vede. Ho sempre robe da mettere tipo nei beauty, così. E questo lo utilizzerò. Mi piace, approvato. Poi siamo verso la fine. Questo è un altro pelucetto. E credo sia sempre Sanrio. Perché in teoria ho riconosciuto il personaggio, anche se non so dire il nome. E infatti è un personaggio Sanrio, però non mi dicono il nome. Me lo dite voi che personaggio è? Ha la codina rigida. Ah, ma ha la stellina. Allora, il personaggino è questo qui. È carino, dai. Direi che è molto carino. E qui davanti sta tenendo una stellina, quindi praticamente è di profilo, con qua la codina dietro e le zampine qua davanti e il musetto con la stellina tra le zampe. È carino, carino. Io volevo roba da mangiare, ma qua non c'è più niente. È da mangiare? Ovviamente mi è arrivata una telefonata proprio mentre stavo per mettermi in bocca questa cosa. Comunque, era una telefonata importante, quindi non potevo lasciar perdere e ho dovuto stoppare. Adesso mi sono un attimo perso, ma mi riprendo. Dicevo che pensavo fosse un lecca-lecca, ma invece no, perché è duro e è una penna. C'è una penna all'interno. Una cosa che apprezzo sempre un sacco di queste cose, e non riuscirò mai a farvelo vedere, è che queste penne, io non le avevo mai viste, ma le vendono, praticamente le mandano, perché a me sono arrivate, con un micro tappo di gomma proprio a salvare la punta. E non lo so, mi piace, perché mi dà l'impressione che si secchi meno, non lo so che duri di più. E comunque questa è la penna. Metti a fuoco, per cortesia. Eccola qua. C'è semplicemente una nuvoletta, molto carina. Niente di che, però è semplice. Mi dispiace, perché sembrava un lecca-lecca, io volevo ciucciare. Ok, qua cosa c'è? Altri sticker. Sticker Flakes. Cosa sarebbero gli Sticker Flakes? Apriamoli subito. E una sacchetta, con un altro sacchetto. Ah, ok. Ma vai a cagare. Ci sono degli Sticker, che poi mi riempirò dappertutto, lo so già. Ah, Flakes, nel senso che sono sbrillucci. Ecco, sono già volati. Sono... Sono fatti così. Sono sbrillucci così. Ce ne sono... Tutti mi stanno cadendo. Tutti mi stanno cadendo. Comunque ce ne sono tanti. C'è fatto così. Non so se lo vedete. Spero di sì. Poi c'è fatto a stellina. Tutti sempre brilloccicosi. Poi c'è fatto a fiocchetto. E ce ne sono una marea. Ma veramente una marea. Sono carini. Questi qua, sapete per cosa sono carini? Tipo per chiudere i pacchi. O per chiudere le buste, le lettere. Quindi li conserverò. Così quando magari farò un altro mio giveaway o un mio shop, la butto lì. Magari li utilizzerò per chiudere i pacchetti o le buste o quello che sarà. Poi credo che... No, c'è un'altra cosa. Forse è cibo. Oddio. Cosa dovrebbe mai essere? Secondo voi è cibo? Sembra praticamente una specie di sushi. Da questa parte c'è tipo sta roba rossa che non so cosa si è sopra o sotto. Questa roba invece bianca che sembra quasi del sushi con sopra il salmone. Secondo voi è cibo? Non vorrei... Non sa di cibo. Però sembrerebbe cibo. 2023. Proviamo? Secondo voi sto leccando della plastica? Ragazzi, secondo me è plastica. No, però, perché è un po' in colla. Ma... No, è un lecca-lecca. Che strano. Non so dirvi di cosa sa. Boh. Vabbè, però è buono. Cioè, non ho capito il sapore. Per fortuna non sa di sushi perché avrei vomitato. Io non sopporto il sushi. Comunque, ragazzi, queste erano tutte le cose che c'erano dentro questa blippo bag. Per il giveaway. Come sempre, qui sotto vi lascio un link. Voi andate all'interno di questo link e fate tutto quello che dovete fare. Sicuramente ci sarà da mettere like ai miei social, mettere like ai social della blippo e poi inserire ovviamente la vostra mail per partecipare all'estrazione. Le ultime volte sono felice perché hanno vinto effettivamente... Ma io devo continuare con questo coso? È che non so dove appoggiarlo? Dove potrei metterlo? Vabbè, me lo tengo in mano. Le ultime volte sono contento, stavo dicendo, perché effettivamente hanno vinto dei miei follower. Le prime volte invece vinceva gente in America, gente in Uganda, gente ovunque, non lo so. Le ultime volte invece ho saputo che ha vinto gente che mi segue. La cosa mi fa strafelice. Quindi, se vi va di provare a vincere una cosa carina, sfiziosa, come questa qui, vi lascio qui sotto il link. Andate, non vi costa niente, non costa niente a me, non costa niente a voi. Quindi io questa occasione appena posso la prendo al volo e spero, come sempre, che vi faccia piacere. Alla fine, ve l'ho sempre detto, non è un regalo che vi faccio direttamente, ma è comunque un qualcosa che tramite me, diciamo, arriva a voi. Quindi ragazzi, se vi va, qui sotto trovate il link. Io intanto vado a finire questo, perché ormai ho capito che non posso metterlo da nessuna parte. Vado a sistemare tutto, torno a casa, edito il video e domani ve lo mostro. Quindi intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ma che si è fatto per farlo così? No. Non credo che il senso sia quello. Perché non si consumerebbe mai. Vabbè, lei però non è proprio male.